E' sabato primo aprile, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Massimiliano Chiocchio. Apriamo con la sanità, bisogna farsi sentire, il gruppo di minoranza al comune di Termoli alza la voce a tutela del Santimoteo, il nostro hanno detto i consiglieri in una conferenza stampa, era un signor ospedale, da un po' ormai è stata messa in atto una scientifica manovra di distruzione, ci dice tutto Andrea Nasillo. E' il momento di alzare la voce a tutela del Santimoteo, adesso abbiamo delle macerie, ci vanno giù duro i consiglieri di minoranza al comune di Termoli che hanno convocato la stampa, nel calderone numerose criticità, dalla mancata attrattività dell'ospedale dove il personale sanitario ha bisogno di aiuto, dove i medici scelgono a quanto pare di non venire. Tutto, hanno detto in sostanza, va riorganizzato. I consiglieri Nicolino Di Michele, Marcella Stumpo, Oscar Scurti, Antonio Bovio e Daniela De Caro, in rappresentanza dell'opposizione comunale, invitano i cittadini a manifestare. La politica chiaramente ha le sue colpe e ha i suoi doveri, ma senza il sostegno e la partecipazione dei cittadini, noi come rete della sinistra è da anni che cerchiamo di svegliare un po' le coscienze, non si arriva da nessuna parte, perché purtroppo la volontà è la distruzione totale dell'ospedale Santimotio e quindi del Basso Molise. Ci vuole il ripianamento del debito, ma ci vuole un investimento massiccio, a fondo perduto, noi l'abbiamo anche stimato di quanto dovrebbe essere, per riportare la sanità molisana a quella che era prima che cominciasse questa sciagurata volontà di distruzione. Sono qui molto preoccupato dalla notizia che è venuta fuori qualche giorno fa sulla chiusura della rianimazione. Voi mi insegnate chiudere la rianimazione significa chiudere l'ospedale, perché interventi non se ne possono fare più, di nessun tipo, neanche l'intervento per dire più semplice a una mano piuttosto che a un piede. Diciamo che Toma ha subito preso la notizia ed è tornato indietro, però noi non ci crediamo. La regione Molise ha 137 milioni di debiti e ha messo purtroppo tra questi debiti tutti i soldi che arriveranno da qui ai prossimi anni. Non solo la salute, ma anche i servizi devono essere garantiti. Siamo qui, ha detto la De Caro, per cercare delle soluzioni. C'è preoccupazione dalla rianimazione agli altri reparti, un grido generale. Persone che si rivolgono per delle emergenze spesso sono rimantate anche al giorno successivo e ai giorni successivi. Questo capita specie in alcuni orari. Quindi chiaramente questo è dovuto soprattutto al disservizio, alla mancanza di personale, che ricordiamo, anche se ci sono i bandi, stanno facendo diversi bandi di concorsi. Il problema serio è che se l'ospedale non viene rilanciato diventa anche poco appetibile rispetto a chi partecipa ai bandi. Quindi è chiaro che ci vuole un ampio progetto di rilancio di questo ospedale, i servizi così come erano anche una volta. Questa sera, a partire dalle 20.30, Sant'Elia Pianisi rivive le scene e l'emozione di quella che viene definita come la più grande opera dell'amore di Dio. La passione di Gesù alla sua ventottesima edizione si svolge in forma itinerante, toccando diversi punti del paese, mentre la partenza del corteo all'arrivo per la scena della crocifissione sono fissate sul sagrato del convento, luogo caro ai santeliani, dove studiò per tre anni Padre Pio, l'organizzazione dell'evento e dell'associazione Crucis. E ora al Cibus di Parma, che si è appena concluso il Molise protagonista con la firma di un accordo con le regioni Abruzzo e Puglia sulla transumanza e proprio nello stand molisano è stato preparato un piatto dedicato al cibo dei pastori. Ci dice tutto Giovanni Di Tota. Il pane raffermo avvolto in un panno e custodito dai pastori nella bisaccia, poi le erbe spontanee raccolte sul posto, legumi, l'immancabile salsiccia. I cuochi professionisti ne hanno fatto un piatto gourmet che ha esordito nello stand del Molise al Cibus di Parma. Ovviamente condito con l'olio nostrano extravergine d'oliva e accompagnato da una robusta tintiglia che racconta decenni di una vite autoctona riscoperta solo di recente. Lo hanno chiamato piatto della transumanza proprio per ricordare il modo semplice ma comunque genuino di mangiare durante il viaggio lungo i tratturi. E proprio nei saloni in cui a Parma si è svolto il Cibus, appuntamento centrale con il meglio della gastronomia italiana, il commissario straordinario dell'azienda di soggiorno Remo Di Giandomenico ha siglato l'intesa con il Parco Nazionale d'Abruzzo e quello del Gargano proprio per valorizzare la transumanza, questa antichissima tradizione che prosegue ancora oggi di trasferire le mandrie dai pascoli invernali a quelli estivi e viceversa. Un percorso di chilometri attraverso i tratturi che segnano valli e pianure di Abruzzo, Molise e Puglia ma che proprio nella nostra regione sono meglio conservati. Oltre al piatto della transumanza, al Cibus di Parma è stato protagonista anche il tartufo degustato in vari modi nello stand circolare del Molise, uno spazio realizzato a forma di mondo al cui interno è stato possibile sedersi per assaggiare e osservare il meglio dei prodotti nostrani. Bene, è tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura di rassegna diamo subito uno sguardo al giornale del Molise. In apertura c'è il terremoto di martedì scorso a Campobasso, danni in molti appartamenti di via Toscana. Poi la politica a bilancio regionale, mancano all'appello 137 milioni. Toma chiede un intervento straordinario del governo. Poi le altre notizie in evidenza. La sanità ha comitato Santimoteo, l'ospedale di Termoli è in uno stato comatoso. E' ancora sempre da Termoli a parlare l'opposizione comunale a tutela del Santimoteo. Dicono è il momento di farsi sentire. Passiamo adesso a primo piano Molise, c'è la politica in evidenza. Elezioni, centro-sinistra, il PD mette all'angolo i 5 Stelle. Ieri ennesimo tavolo di coalizione, out-out di Facciolla. Entro Pasqua la partita va chiusa. La prossima settimana noi tireremo fuori un nome Federico, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, l'ostaggio delle lotte intestine, endorsement per greco dall'uomo di Conte in Sicilia. Adesso andiamo a centropagina per l'onorificenza conferita da Sergio Mattarella dal capo dello Stato a Maria Mastro Iacovo. Ieri la consegna dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, la fondatrice dell'Associazione Cielo e Terra di Trivento. Poi le altre notizie. Ospedali, l'ASREM cerca 19 anestesisti, rispondono al bando solo un TC specializzanti. L'avvertenza, sanità, ossigeno nelle casse dei privati, Roma autorizza il pagamento dell'extra budget. Si parla poi di viabilità, sente d'Alfonso alla soluzione. Ci sono i fondi per il progetto. Torniamo alla politica. Buco di bilancio. Fanelli dice, cancellato il futuro di un Molise in bancarotta. Dai Sernia, Caso Vigliardi, Regione, Unimo, le aziende provano a superare il guado. Ancora la sanità da Termoli, Santimoteo, K.O., posizione e comitato a Filano. Le armi da Campobasso, Camera Penale, Principe, confermato alla Presidenza. Segretario Verde e Tesoriere Veneziano, stabilite le linee programmatiche. Andiamo in taglio alto per le notizie sportive. Su primo piano, Campobasso, rosso-blu di scena a Venafro, De Filippis dice Sino in fondo. Nuoto, Criteria Giovanili, Arriccione, una medaglia di bronzo con Muccitto. Poi la palla a volo, la capolista Sarroc in serata ore 20 sulla strada degli Spike. Proseguiamo con la stampa locale, con Informa Molise, quotidiano online, che questa mattina propone una riflessione di Pietro Cola Giovanni. Varie ed eventuali, questa è la rubrica, perché non sopporto il politicamente corretto. Mi fa sobalzare sulla sedia, mi agita, mi cambia l'umore. Il politicamente corretto e le sue estrinsecazioni, scrive Pietro Cola Giovanni. Il pezzo può essere letto integralmente su informamolise.com Passiamo adesso alla stampa nazionale. Andiamo subito alla prima pagina del Corriere della Sera. Migranti, vertice per decidere, questo il titolo di apertura che fa il Corriere. Colloquio Mattarella Meloni, la russa, dice, in via Rasella fu uccisa una banda musicale. Ed è bufera sulle dichiarazioni del Presidente del Senato. Martedì incontro di governo sulla gestione degli sbarchi. La Premier, due ore al Quirinale, il punto su PNRR, Energia e Appalti. A centropagina una bella fotonotizia che ritrae Papa Francesco. I sorrisi e il battesimo ritorna a casa per il Papa dopo il ricovero. Domani andrà alla celebrazione delle palme. Poi una notizia agghiacciante di cronaca che ritroveremo anche in altri quotidiani. L'Aquila si spara, era in pensione primaria, uccide moglie e figli. Lasciamo il Corriere e passiamo alla prima pagina del quotidiano. La Repubblica PNRR, allarme del Colle, il recovery a rischio. Incontro Mattarella Meloni per discutere i ritardi delle opere. La Premier dice, non l'abbiamo scritto noi, ora va rimodulato. Il commissario dell'Unione Europea, Sinchevicius, dice, il governo trovi le risorse per realizzarlo, vogliamo chiarimenti, sui fondi destinati agli stati. La Gard dice, l'Italia ha un ruolo fondamentale, porti a termine il piano. Poi a centropagina la polemica scatenata dalle frasi del Presidente del Senato, Ignazio Larussa, frasi shock sulla resistenza. Larussa dice, avvia Rasella, uccisi solo musicisti. Ci sono poi i vari commenti. Un'intervista ad Edith Brook, la scrittrice, che dice la sua è una sfida e quindi si deve dimettere il commento di Corrado Augias, parole indegne per un Presidente del Senato. Andiamo avanti con la nostra rassegna. Passiamo al fatto quotidiano. Mattarella a Meloni. Ora la pacchia è finita. Questo è il titolo che fa il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che parla di una chiamata al rapporto del Presidente della Repubblica, che dice, basta lo scarica barile, ben due ore di colloquio al Quirinale, su PNRR, condoni e altre grane di governo. Tratti non accusi i predecessori e lei non va più in Friuli. Lasciamo il fatto quotidiano e passiamo alla prima pagina di Libero. To CGL contro i migranti. To Gentiloni li torturava. Questo è il titolo musicale che fa questa mattina in apertura il quotidiano libero. La FIOM no alle assunzioni di stranieri a Mirafiori, prima gli italiani e l'Europa condanna l'Italia per come il governo PD trattava i profughi. Poi la notizia in taglio alto che riguarda le pensioni, da oggi pensioni più alte per tutti, aumenti dal 2,6% fino al 6%. E tre, un commento di segno diverso sul caso La Russa pubblicato sul Libero, a scrivere è il condirettore Pietro Senaldi, il caso La Russa, la sinistra dica che via Rasella fu un errore. E lasciamo Libero e passiamo alla prima pagina dell'avvenire. Tutti alla stanga, questo è il titolo di apertura che fa questa mattina il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Mattarella aiuta Meloni a completare le riforme del PNRR per non perdere i fondi europei. Dalla concorrenza per le spiagge e gli stadi, CGL e Will in piazza contro il codice degli appalti. Incontro cordiale, cordiale. L'avvenire lo mette tra virgolette, tra il Presidente e la Premier, che ribadisce anche la linea di appoggio a Kiev. restiamo sull'avvenire. A centropagina anche qui una foto notizia di Papa Francesco. Il Papa a casa presiederà le palme al Gemelli, il battesimo di un bimbo. Oggi le dimissioni dall'ospedale, domenica la messa a San Pietro. Andiamo avanti e passiamo al quotidiano comunista. Il manifesto repubblichino di Stato, questo è il titolo di apertura, con riferimento al Presidente del Senato, Ignazio Larussa. Dopo il revisionismo della Premier Meloni sulle fosse ardeatine, il Presidente del Senato Larussa, seconda carica dello Stato, a pochi giorni dal 25 aprile, rilancia e attacca la resistenza. L'attentato di Via Rasella non è stata una delle pagine più gloriose. Hanno ammazzato una banda musicale di semi pensionati. Questo dice il Presidente del Senato, pioggia di reazioni indignate, scrive il manifesto, non può ricoprire quel ruolo. Poi andiamo negli Stati Uniti, incriminato Trump, entra nella storia. Martedì l'ex Presidente a New York per la lettura dei diritti, impronte e foto segnaletica. Lasciamo il manifesto, andiamo al secolo d'Italia. Meloni, riforma fiscale dopo 50 anni, scrive il quotidiano della destra. Poi le altre notizie in primo piano. Meloni a pranzo con Mattarella, pieno accordo sul dossier PNRR, gelo tra Ellish Line e Conte, in Friuli alleanza di facciata. Poi si parla di Fedez, i social bocciano l'idea di Fedez della nave per migranti. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano di Torino, la stampa. PNRR, i timori di Mattarella. Meloni dice, ci sono ostacoli. Questo il titolo di apertura. Pranzo a sorpresa al colle, la premier annulla il viaggio in Friuli. Non faccio condoni, dice Meloni. Lagarde dice, sui tassi non cedo, Banca Italia per il dopovisco, corsa, pannetta, cipollone. E anche sulla stampa, ritorna la polemica sulle frasi di La Russa. La Russa, ultima vergogna, scrive La Stampa, le menzogne su Via Rasella, il presidente del Senato. I partigiani non colpirono. I nazisti, restiamo sempre sulla stampa. Anche qui bella fotonotizia di Papa, Francesco, le carezze del Papa, Francesco visita i bambini al gemelli, oggi lascia l'ospedale. E vediamo adesso, con il sole 24 ore, l'informazione economica. Inflazione a marzo, calo da 9,3 a 7,7%, ma il carrello della spesa resta. Al 12,7% si parla della dinamica dei prezzi, con la discesa delle bollette, toccato il livello più basso dalla scorsa primavera. La Gard dice, politica monetaria, strumento migliore contro la corsa dei prezzi. Poi si parla del ponte sullo stretto, cantieri aperti, entro giugno 2024, scrive il quotidiano di Confindustria. Andiamo adesso invece, con la Gazzetta dello Sport, a vedere l'informazione sportiva, paginone di apertura dedicato all'Inter. Il pugno di Lukaku, avvisa Inzaghi, vuole giocare sempre. Oggi titolare in casa, con la Fiorentina, ma chiede più minuti e fiducia. e all'Inter dice, resto qui. Prima pagina del quotidiano abruzzese, il centro. Troveremo lo stesso tipo di impostazione anche sulle edizioni locali, perché l'apertura è su una tragedia. Medico stermina la famiglia, lascia una lettera e si uccide. L'Aquila spara alla moglie e alla figlia, poi fa fuoco anche contro il figlio di Sabile. Il primario Vicentini, forse aveva premeditato la strage. Corpi trovati 36 ore dopo. E a centropagina tutto documentato, tutta la fotodocumentazione dell'accaduto. I ritratti, ecco, chi sono le vittime, la più giovane a 36 anni. Poi le testimonianze, biondi, cuore straziato, Petrocchi invita alla preghiera. Poi parla l'esperta, le difficoltà di chi resta solo a gestire i disabili. Quindi si cercano anche le cause. Vediamo le altre notizie sulla prima pagina dell'edizione principale del centro. Sarà un'estate con l'acqua pescara, per ora emergenza scongiurata, ottimista la Presidente ACA, ma stop alle fontanelle di notte. E adesso andiamo a vedere le altre notizie sulle edizioni locali, che ripetono la stessa impostazione in prima pagina dell'edizione generale, sul medico che ha sterminato la famiglia. Ha lasciato una lettera e poi si è ucciso. Questa è l'edizione che riguarda l'area del Teramano. Vediamo le altre notizie su questo territorio. Si parla di elezioni a Teramo. Primo confronto tra i tre sfidanti, il sindaco uscente d'Alberto, incalzato da Marroni e Antonetti. Poi sempre da Teramo, gli organi di Mattia salvano quattro vite, politica e lutto. L'Aquila, addio alla senatrice, Marinucci aveva 94 anni. Andiamo avanti con le edizioni locali. Passiamo a quella del territorio di Chieti, Lanciano, vasto. Stessa apertura sulla strage in famiglia. Poi le altre notizie. Chieti aveva 79 anni, addio Tatozzi, avvocati in lutto. Camillo è stato il presidente dell'ordine dal 1992 al 2009. Poi da Chieti, stop alla crisi in comune. Ferrara, avanti. Uniti da Ortona, scomparso in mare, le ricerche senza esito. Passiamo adesso invece alla edizione del centro che riguarda il territorio di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Anche qui l'apertura sulla strage in famiglia. Poi le altre notizie. Addio alla senatrice Marinucci. È morta a 94 anni. La storica socialista Aquilana fu una delle pioniere dell'impegno delle donne in politica. Dall'Aquila bollò auto. Il comune si appella al governo Pescina, capitale della cultura. Il sogno è sfumato. Lasciamo il centro e andiamo adesso alla pagina del messaggero dedicata all'Abruzzo. Anche qui purtroppo la tragedia in apertura. Stermina la famiglia e si uccide. L'Aquila sotto shock. Carlo Vicentini, noto primario, settantenne, da un mese in pensione, con una pistola. Ha ucciso nel sonno i suoi due figli, uno disabile e la moglie, 63enne, lasciato un biglietto farneticante. Vediamo le foto purtroppo delle persone decedute qui a centropagina dell'edizione abruzzese del messaggero. Le altre notizie. A Roma muore a 94 anni la senatrice Elena Marinucci. poi un altro fatto di cronaca con un attizzatoio tenta di ammazzare la moglie arrestato. Montorio, la donna 74enne grave in ospedale, sono stati i medici a chiamare subito i militari. Bene, termina qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. a voi tutti, buona giornata.